Grazie Grazie stanchi è mezzanotte saremo molto brevi ci vorrebbe un tè grazie veramente intanto ringrazio anche il Cima Beltrade con cui abbiamo collaborato da qualche anno collaboriamo da qualche anno e devo dire che Milano è un po' rinata in questi anni e in realtà come Cima Beltrade che ormai peraltro esistono da diversi anni sono proprio preziose perché consentono proprio di stringere anche delle alleanze culturali grazie grazie a chi grazie a chi si presta le nostre collie infatti per esempio quando capitano poi appunto in questo caso io conoscevo Marco avevo già visto il documentario a Ragusa qualche anno fa e appunto ovviamente che in camera non era il luogo giusto per presentarlo però era un'occasione insomma da accogliere non la sua presenza anzi è venuta apposta insomma però insomma questa presentazione a Milano era da organizzare e appunto grazie a Beltrade l'abbiamo poi pensata per questa sera Marco io in realtà non devo dire più niente perché io Don Deo purtroppo non l'ho mai conosciuto sono forse una delle poche o dei pochi qua dentro a non averlo mai incontrato di persona per cui tra tutte le persone qui presenti quella che deve stare proprio più zitta dovrei proprio essere io in realtà un motivo per cui non lo conosco è perché non ci sono dei bei libri adesso qualcuno mi ucciderà di Mario Don Deo delle sue fotografie manca io mi occupo di editoria fotografica quindi conosco gli autori spesso attraverso i libri e Don Deo non fa parte non ha un libro d'artista diciamo e quindi si sa mai sarebbe bello forse aspettiamo nelle Marche dove stanno facendo un lavoro pazzesco quelli dell'archivio che sono quei signori che avete visto in quella scena in interno che c'era una barca su un quadro quella proprio era la casa di Mario a Fermo nelle Marche dove ha vissuto per gli ultimi 20 anni questa ricerca iniziata con lui è proseguita e prosegue ancora oggi tra questo ammasso di pellicole negativi di diapositive tra bianco e nero e colore e stanno scoprendo delle cose meravigliose servizi che neanche Mario si ricordava più cose bellissime si trovano a Fermo la fototella di Fermo ospita l'archivio Mario Don Deo sarebbe interessante in realtà perché adesso non vorrei andare fuori tema rispetto al film però se pensate che un fotografo come Guido Guidi che è l'autore oggi più accreditato come fotografo italiano più celebre internazionalmente è stato tra virgolette scoperto all'estero attraverso i libri dell'editore inglese Mac adesso ne ha pubblicati tanti nel giro di pochi anni in realtà è stato proprio il libro a sdoganare il lavoro di Guido Guidi quindi il potere del libro fotografico è molto grande potrebbe aiutare anche ma non so mi viene da dire che anche Berenko Gardin non ha un bel libro e ne ha fatti più di cento per cui esistono fare un buon libro che trovi che incontri un pubblico internazionale aiuta anche l'autore a essere conosciuto a un pubblico molto più vasto insomma pubblico internazionale che è il pubblico con cui io dialogo insomma abitualmente sono meno legata a una realtà solo italiana ecco volevo però ecco per cui sarebbe bello forse da qui potrebbe nascere proprio l'idea di fare un libro per le fotografie è molto attivo e proseguono e stanno adesso cercando di sistemarlo sempre meglio i figli ovviamente sono gli erediteri quindi Maddalena Elisa e Bruno i tre figli di Mario e quindi ecco ma allora tu da dove sei partito dall'archivio? cioè come è cominciata questa sono partito nel 2004 conoscendo Mario per un evento che c'era lì proprio che c'era lì nelle Marche ero stato invitato a fare un documentario sul paesaggio marchigiano Mario ha vissuto lì negli ultimi 20 anni per una serie di coincidenze insomma poi ci racconteremo con calma con chi vorrà e ho conosciuto Mario in quell'occasione poi solo nel 2010 ho iniziato il film e quello che ci ha legati è che fece un documentario nel 2008 in Basilicata raccontando una tradizione locale lì per un documentario antropologico e Mario mi disse vabbè se tu c'hai in mente di fare questo documentario come fammi vedere qualcosa io gli ho fatto vedere quella che mi sembrava la cosa più vicina a lui Mario vede questo film e dice ma io questa storia l'ho fotografata agli anni settanta e questa cosa avevo messo i passi nelle sue impronte praticamente quindi ci siamo ritrovati bene e nel 2010 ho fatto la prima sessione di riprese proprio qui a Milano per una mostra che avevano prodotto nuova di fotografia scusami con l'idea di fare un documentario piano piano nel tempo dopo sei anni che lo conoscevo mi rendevo conto che tutto quello che diceva era così prezioso la sua esperienza e nessuno filmava mai niente mi sembrava assurda questa cosa quindi prima la timidezza la differenza di età eccetera ho temporeggiato poi sempre progressivamente conoscendolo meglio fra eventi culturali cene eccetera siamo diventati amici nel tempo questa cosa della Basilicata ha scatenato questa amicizia fortissima e nel 2010 mi ha invitato a filmarlo per una prima mostra di novità cioè l'avevano invitato un gruppo di addirittura un buro di avvocati e avevano finanziato e sponsorizzato una mostra di fotografie flaneristiche fra Parigi e Milano e in occasione di questa novità Mario mi disse vieni così vediamo quello che succede iniziamo qua e poi la regione Marche mi ha dato un piccolo fondo perché è diventata una cosa seria e solo che io ho fatto un posto a lei Kubrick ho fatto incalzare quelli della regione Marche sono andato avanti invece che due anni erano cinque anni questi mi vorranno togliere i soldi insomma un sacco di minacci però invece li ringrazio tantissimo hanno capito che ero in buona fede mi dispiaceva lasciare oramai questa amicizia e perdere quel materiale che raccoglievo ci siamo poi capiti e quindi abbiamo chiuso il film perché Mario mi ha chiesto di chiederti proprio questa cosa come prima mi hai raccontato insomma la fine la corsa finale insomma a Gash per far vedere no avevo deciso di non finirlo più il film a quel punto che avevo trovato gli accordi con la regione eccetera volevo lasciare tutto questo mucchio di immagini come un film fiume sullo stile di Alberto Grifi diciamo dei nostri grandi maestri del documentario di strada così e invece Mario mi ha detto no abbiamo lavorato così tanto adesso i medici mi hanno detto che io sto proprio lui già pagava un tumore da molti anni prima che io lo conoscesse insomma e quindi mi ha detto che gli avevano dichiarato che stava giocando i calci di rigore e quindi mi ha sorpreso e così ho chiamato questa montatrice abbiamo montato il film in otto mesi nove mesi e poi Mario l'ha visto perché è uscito a maggio mi ha abbracciato e mi ha detto sei promosso Marcovice perché mi sembra abbastanza comunista mi sembra abbastanza comunista e mi ha abbracciato e gli è piaciuto il film insomma e il titolo l'ha scelto lui o l'hai scelto tu? l'ho scelto io perché era una frase che mi diceva mio padre che era un giocatore di biliardo e Mario un giorno mi fece arrabbiare perché in un giorno solo facemmo dalle Marche a Roma per prendere delle foto poi una mostra a Firenze nel pomeriggio e avevo un'altra mostra a Senigallia di nuovo nelle Marche la sera quindi abbiamo fatto questo rettangolo era dispendioso il livello di guida era una gran fatica ma lui così col bicchiere parlava con le persone eccetera allora sono andato là un po' nervosamente Mario adesso mi fai ammazzare per strada lui mi ha fatto calma e cesso ed era una frase che ci diceva nostro padre da bambini quindi mi è sembrato proprio perfetto per lui perché poi la sua vita è stata una vita di calma e cesso insomma ecco quindi Mario è stato bello perché mi ha portato dall'altra parte di me cioè io come regista ovviamente amo lavorare con la fotografia vengo dalla pittura quindi stiamo preparando adesso anzi c'è Michele Casula là in fondo che ci porterà nei prossimi giorni in Sardegna perché inizierò lì la prima sessione di ripresa mi sono particolarmente emozionato e felicissimo della sua presenza e inizierò un lavoro sulla cinema italiano visto dagli occhi della scenografia di Giancarlo Brasili che vedremo tra circa 6-7 anni no 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 ho gli accordi con la regione che mi hanno detto già da ora che mi taglieranno la testa e quindi ci piace lavorare con un direttore della fotografia comporre l'immagine costruire pieni di scuri chiari lavorare con delle luci Mario mi ha spostato dall'altra parte di me c'è la sua poetica della semplicità della forse trascuratezza ma della sostanza mi hanno spinto verso questa direzione con le immagini quindi ho ho pensato il film come se fosse visto dagli occhi di un terzo passeggero quindi ci sono inquadrature da arresto dietro al sedile no lui di spalle cose da arresto effettivamente ma mi piaceva portare la mia fortuna di stare sempre con Mario mi faceva pensare che il film doveva essere visto da un passeggero che aveva la stessa fortuna mia quindi seguiamo lui nelle mostre così allora il film l'ho pensato con questa direzione l'ho fatto tutto questo stile un po' crudo con degli audio sbagliati però ci ho provato insomma e spero che Mario ritorni per quella persona fantastica che è assolutamente sì io non vorrei dilungarmi tanto però vorrei chiedere a voi se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Marco è l'occasione per farlo questo documentario io ho una curiosità questo archivio che si trova a Fermo le dimensioni chi lo cura è accessibile che cosa ne può ancora saldare fuori sta saltando fuori veramente di tutto grazie a voi grazie a voi viva Mario e sta saltando fuori veramente di tutto i servizi negli anni adesso sono arrivati a distinguere anno per anno quello che è successo diciamo dal 67 58 in avanti sono arrivati al 2008 2009 ma chi sono e è la fototeca di Fermo che però ha posizione in un piccolo paese del Fermano che si chiama Altidona e praticamente sono degli specialisti dei grandi amici di Mario come noi così che siamo stati sempre con lui nell'ultimo suo ventennio nelle marche e sono persone che hanno un'associazione di fotografia lì che da anni propone mostre di grandissimi fotografi sono venuti appunto Gianni Perengo Giuliano Lucas tantissimi fotografi spero porteremo anche lì prestissimo e quindi persone molto esperte devo dire che stanno lavorando ci sono dei tecnici che digitalizzano restaurano le foto e ci sono invece gli altri che curano più la parte diciamo storica storiografica archivistica insomma c'è una parte accessibile via internet sì il sito è cercando sul google adesso purtroppo non ricordo precisamente la dicitura ma è comunque fototeca di fermo o archivio Mario D'Ondero che uno l'archivio di Mario D'Ondero è dentro la fototeca di fermo che raccoglie anche altri altri fondi altri lasciti quindi in quel sito lo stanno curando anche penso bene quindi spero troverete l'informazione giusta penso che la famiglia immagino no per decidere anche anche queste cose a me è piaciuta molto la musica anche te lo volevo confermare effettivamente giustissima è molto scorrevole malgrado la lunghezza non è noia proprio perché tiene un ritmo accompagnato molto bene dalla musica grazie e c'è molto poi la voce è molto importante la sua voce l'audio sarà sporco però la sua voce è sempre in primo piano e conduce molto lo spettatore e poi canta benissimo se posso dire io non avevo idea è meraviglioso crooner si poi il suo timbro è veramente una persona meravigliosa io chiuderei questa serata ringraziando tutti di essere venuti e soprattutto ringraziando Marco per il lavoro che ha fatto e per essere venuti a presentare e soprattutto grazie al Beltrade e viva il Beltrade grazie a voi